Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video. Questo è solo un piccolo video informativo per informarvi appunto dell'arrivo sul mercato di un nuovo dispositivo di casa Apsan. Il dispositivo di cui vi sto parlando è uno smart controller, sì perché ormai come sapete DJI introducendo uno smart controller direttamente nella confezione di un prodotto consumer ha ovviamente stravolto il mercato e ha fatto capire anche agli altri produttori che è arrivato il momento di seguire questa tipologia di strada. Ovviamente in questo caso non sarà incluso in confezione ma sarà a parte ma sarà sempre un controller per droni da 249 grammi e per droni consumer. Ovviamente questa strada l'ha già intrapresa anche female come sapete perché ha messo in commercio poche settimane fa appunto il suo smart controller e questa ovviamente sarà la strada che percorreranno probabilmente tutti i produttori di droni di un determinato livello. Ovviamente questi smart controller hanno stravolto diciamo la tipologia di vendita del prodotto per quanto riguarda ovviamente il costo perché come sapete gli smart controller hanno sempre avuto prezzi incredibili sia per outer che per DJI si è sempre parlato di 1000 euro di smart controller. Mentre con l'arrivo di questo controller per quanto riguarda DJI è un prodotto che viene venduto separatamente dal drone a circa 300 euro. Stessa cosa ha fatto Fimi introducendo il suo smart controller che è acquistabile su Banggood a poco meno di 300 euro e suppongo che anche Apsan faccia la stessa filosofia di vendita quindi penso sarà un prodotto che avrà un prezzo tra i 250 e i 300 euro. Ma detto tutto questo adesso è arrivato finalmente il momento di vedere la foto dello smart controller di casa Apsan e lo smart controller ragazzi è questo. Come vedete è ovviamente uno smart controller bello impegnativo dal punto di vista delle dimensioni le prime cose che si vedono è un display che non è come quello di DJI che è un display a 16 noni qua parliamo di un display che ha una forma più da quattro terzi le antenne abbiamo due antenne veramente impegnative dal punto di vista delle dimensioni guardate quanto sono lunghe almeno per quanto riguarda questa foto del controller perché comunque non è una foto di un rendering è proprio la foto del prodotto. Questa foto è stata pubblicata da Carlo che è ovviamente il proprietario di quello che è l'assistenza di Apsan Italia quindi è una foto che non è un fake ma sicuramente è una foto di un prodotto che arriverà a breve quindi di questo abbiamo la certezza però non sappiamo nient'altro appunto non sappiamo se Apsan renderà questo prodotto compatibile con tutte le sue versioni di Zino o solo con lo Zino Mini Pro perché comunque sappiamo che non tutte le versioni di Zino Mini hanno la stessa connessione Wi-Fi nel senso che Apsan ha di proprietà un suo sistema di connessione Wi-Fi come DJI all'Ocu Sync loro hanno lo Sync LX per quanto riguarda lo Zino Mini Pro siamo arrivati alla versione 3 mentre per lo Zino Mini SE la versione più economica di lui utilizza ancora la versione 2 di questo Sync LX quindi non so se questo controller si adatterà alle varie tipologie di droni ovviamente via software quindi quando riconoscerà il tipo di drone lui adatterà la connessione spero di sì anche perché se no Apsan andrebbe molto a limitare le vendite di questo prodotto poi vabbè si vede poco altro i tanti tasti anche programmabili personalizzabili quindi tutte cose che ovviamente hanno gli smart controller questa cosa sicuramente è interessante il fatto che i maggiori produttori di droni intraprendano questa strada perché ritengo ottimo avere lo smart controller l'unica pecca che lo smart controller lo si paga ovviamente di più di un controller base come può essere questo ed è utilizzabile solo con determinati tipi di prodotti dello stesso marchio mentre se utilizziamo il cellulare come schermo lo utilizziamo su tutti i droni qua gli smart controller vanno acquistati separatamente per quanto riguarda Fimi e Apsan in questo momento poi magari in futuro li integreranno nelle confezioni ma li si pagano ovviamente di più di un controller base quindi alla fine di tutto si paga tutto di più mentre con uno smartphone che già magari abbiamo si riesce a risparmiare poi sull'acquisto del drone però di vantaggio hanno che questi smart controller sono davvero molto visibili sotto la luce del sole non abbassano la luminosità perché si surriscadono che comunque sono fatti con un sistema di raffreddamento a differenza ovviamente dello smartphone quindi hanno questo vantaggio però ovviamente poi tutto si ripercuote sul prezzo finale di vendita mentre quel cellulare si andava a risparmiare qualcosa però ragazzi questo è secondo me il futuro per quanto riguarda i droni consumer quindi ragazzi questo era solo un piccolo video dove volevo appunto mettervi al corrente dell'arrivo anche da parte di Apsan di uno smart controller sicuramente un prodotto molto atteso per quanto riguarda i possessori di Apsan Zino Mini quindi ragazzi se questo è il mio video in cui vi ho portato questa novità di casa Apsan vi è piaciuto e vi è stato utile e vi avete trovato interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale spoiler delle location dove vado a far volare i miei droni tantissime cose arrivano su Instagram sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti ai droni ma tutta la tecnologia in generale lì la trovate ragazzi con coupon direttamente scelti da me ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video un volo, una recensione, un test, un tutorial, novità ciao e al prossimo video